A Parma abbiamo più di 120 parchi, questo è il problema. Il problema è che in passato invece di realizzare un numero adeguato di parchi alla possibilità di manutenzione e anche magari di arricchire il numero di attrazioni per i bambini, sono fatti tanti parchi con piccole attrazioni che poi una volta rotte non si riescono a gestire. Noi stiamo facendo, come pure per quanto riguarda le arricane, una razionalizzazione per cercare di riuscire a seguire quelli che ci sono e quelli anche magari meno utilizzati, di rottarli su altri parchi perché è ovvio che deve essere comparabile alla possibilità del comune. E i costi invece della manutenzione per il comune? In che senso? Chi? Adesso a memoria è difficile, sono diverse centinaia di migliaia di euro suddivise nei vari capitoli, però è ovvio che c'è anche un grande fenomeno, io penso anche abbastanza in aumento che è quello del vandalismo, perché sempre più spesso capita di vedere scritte pulite, cioè muri puliti dai graffiti che vengono risporcati o giochi. Però forse ci dovrebbero essere anche più controlli. Questo essere in 120 parchi capite da soli che è abbastanza impossibile, servirebbe più educazione, questo sicuramente, più educazione e più senso civico.